Do una notizia, qui c'è il vero nuovo fidanzato di Valeria Marini Ve lo pago 15 mila euro Il culo nella vita ci vuole sempre Come non sei puntato? Gira leggermente il manico Siamo a fuoco Tu hai un bel budget di poterti muovere con Antonio Ricci, Striscialla Notizia, Colonio Monzese Questi invece sono quelli che hanno insegnato a tutti voi Carissimo, io so da dove arrivano loro Perché io arrivo dallo stesso punto loro Ma molto molto peggio Il primo servizio che feci con la mia televisione di Gensano L'operatore alla fine mi disse che purtroppo si era scortata la cassetta Sanremo 2024, volevamo non esserci ma per sfiga ci siamo È sempre un posto che ti crea emozioni, ovvio Io venni qui sul palco di Sanremo quando facemmo la promozione di Ogento Tarzan Un programma di Raiuno E quindi essere qui è sempre bello, un'occasione anche perché vedi tutti, il mondo E mi sto accorgendo che Sanremo a prescindere dal festival È bella proprio Sanremo, bisogna venirci anche quando non c'è il festival Perché c'è un mare meraviglioso e degli alberghi sul mare stupendi Quindi si parla sempre di Sanremo per il festival Ma bisognerebbe parlare di Sanremo come piccola bellissima città Sono qui stasera perché sono amica di Paolo Chipparo e naturalmente di Novella E quindi mi fa piacere esserci una volta di più E poi perché sono qui a Sanremo mi sembrava carino venire In realtà siamo ad un evento parallelo, siamo all'evento di Novella 2000 Si celebra il premio, ormai è una tradizione qui a Sanremo Il più grande evento fuori dall'Ariston Questa volta lo facciamo in un teatro, al Teatro Centrale Che peraltro con il patrocinio dell'Ariston E con il patrocinio del comune di Sanremo E sono molto contento perché è una serata di chi lavora e va premiato Ma è anche una serata tra amici Sono qui per Novella 2000, per l'Alessi che ha organizzato questo premio E mi premia, quindi è sempre un piacere di avere un premio Ed è anche un piacere venire sempre qua a Sanremo La serata di Novella è un po' un must have di tutta la settimana Poi vabbè, noi siamo qui ma perché siamo in un gruppo di amici E sono ritrovi veramente di persone con cui condividiamo il nostro anno Il nostro anno lavorativo, il nostro anno di amicizia E poi insomma questa settimana a Sanremese è una settimana veramente particolare E devo dirti che questo festival è un super festival Con veramente dei partecipanti e dei super big, dei big, dei big Lo vedo su un binario giusto Misto, una zuppa, giusto, giovani, anziani A parte che oramai gli anziani non ci sono più Sono incorporati nella gioventù Sono tante canzoni molto belle Mi piace molto quella di Anna Lisa Mi piace molto quella di Loredana Bertè E mi piace molto quella di Angelina Mango Sanremo 2024, chi poteva non esserci se non Andrea Biandrino Nuovo giornalista pubblicista Chi vincerà Sanremo 2024 secondo te? Secondo me io spero tanto Angelina Mango perché mi piace molto ma non sarà lei Purtroppo perciò sarà Anna Lisa Ti offriamo una cena Vince la settanta quattresima edizione del festival della canzone italiana Al mio tre Uno Due Tre Angelina Mango Pronto Francesco? Ciao sono il Caimano Sì no tutto bene Quasi Senti devo prenotare una cena A nome di Andrea Biandrino Sì massimo 35 euro Come perché? Ho perso una scommessa Il vino se lo paga lui Sempre Sì 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 Sì